L'ipertrofia o iperplasia prostatica benigna è una condizione considerata fisiologica che però colpisce la stragrande maggioranza degli uomini dai 50 anni in su. Ma noi abbiamo la possibilità di invertire tutto questo o prevenire l'ingrossamento della prostata? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti, io sono la dottoressa Carlo Tagnavi, farmacista e naturopata e oggi parliamo dell'ingrossamento della prostata. La prostata è una ghiandola essenziale per il sistema riproduttivo maschile e una ghiandola a forma di castagna che noi troviamo posizionata al di sotto della vescica ed è una ghiandola che è attraversata dall'uretra e dai dotti eiaculatori. Però prima di entrare nel tema se non sei ancora iscritto al canale fallo subito clicca su iscriviti e attiva le notifiche cliccando la campanellina che trovi di fianco. Allora essendo una ghiandola attraversata da questi dotti nel momento in cui aumenta di volume che viene considerata una condizione fisiologica che quindi avviene normalmente negli uomini con l'avanzare dell'età aumentando di volume poiché questa cresce medialmente c'è nella parte centrale creando una nuova porzione che viene chiamata adenoma prostatico cosa fa? Va a chiudere a ridurre il calibro dell'uretra e dei dotti eiaculatori e questo può portare a tutta una serie di sintomi. Allora i sintomi che noi possiamo avvertire legati ai cosiddetti lazzo ovvero la sintomatologia del basso addome sono sintomi o di tipo ostruttivo o di tipo irritativo. Quelli di tipo ostruttivo sono proprio legati a questo meccanismo cioè l'aumento di volume della prostata che strozza l'uretra e allora quali sono? Sono ad esempio una minzione non fluente quindi una minzione interrotta un non svuotamento totale della vescica una minzione debole uno sgocciolamento post minzionale questi sono tutti segnali di tipo ostruttivo mentre i sintomi di tipo irritativo sono legati all'irritazione proprio della vescica quindi una necessità di urinare molto spesso una necessità di urinare durante la notte la necessità impellente di urinare e la sensazione di bruciore anche durante la minzione questi sono segnali irritativi entrambi non devono essere sottovalutati perché l'ingrossamento della prostata purtroppo se non gestito non può che peggiorare la situazione quindi possiamo andare incontro a un'ostruzione acuta o cronica che può portare e poi obbligare la persona all'utilizzo del catetere oppure se la vescica non si svuota completamente questo può portare a infezioni può portare a cristallizzazione quindi formazione di calcoli e quindi a compromettere il benessere del rene quindi l'ipb l'ipertrofia prostatica non va assolutamente sottovalutata ma che cos'è che determina un aumento di volume della prostata perché si è sempre presa come condizione fisiologica quindi è causata dal testosterone e va là a me onestamente questa spiegazione non non convince prima di tutto perché perché il testosterone nell'uomo noi lo troviamo al massima potenza intorno ai 20 anni allora se fosse il testosterone a causare l'ingrossamento della prostata perché noi non avremmo tutta questa sintomatologia è un aumento del volume già a 18 20 anni e perché invece avviene l'aumento del volume della prostata quando il testosterone si abbassa perché nell'uomo il testosterone tende ad abbassarsi dai 40 anni in avanti quindi questo discorso del testosterone non ha tutto questo senso anche perché è stato visto negli ultimi studi che invece è proprio lo squilibrio tra testosterone che si abbassa ed estrogeni che aumentano che porta all'aumento del volume della prostata quindi noi possiamo cercare di ribilanciare questo squilibrio ormonale sì e soprattutto il nostro stile di vita incide su questo squilibrio ormonale sì è stato visto che c'è una forte incidenza di ipertrofia prostatica benigna su tutti coloro che soffrono di sindrome metabolica con sindrome metabolica noi indichiamo una situazione caratterizzata dalla compresenza di più fattori di rischio sia metabolici che cardiovascolari quali sono questi fattori di rischio allora prima di tutto un aumento del girovita quindi la presenza di grasso addominale o grasso viscerale prendiamoci la misura se siamo donne e la nostra misura è maggiore di 88 centimetri purtroppo c'è già grasso addominale in eccesso se siamo un uomo se questa supera o è uguale a 102 centimetri anche qui il grasso viscerale è presente questo grasso viscerale è altamente pericoloso pericoloso perché purtroppo produce citochine infiammatorie quindi aumenta l'infiammazione dell'intero sistema e guarda caso proprio il grasso viscerale è in grado di trasformare aumentare la trasformazione del testosterone in estrogeno grazie ad un enzima che si chiama aromatasi quindi se io del grasso viscerale se io sono in sovrappeso o obeso ho prima di tutto un forte stress ossidativo un'infiammazione cronica importante quindi ho la produzione di citochine infiammatorie come ad esempio l'interleuchina 6 e l'interleuchina 8 e nei pazienti obesi l'interleuchina 8 è stata trovata proprio in grande quantità nel liquido seminale e l'interleuchina 8 può aumentare l'espressione dell'fgf l'fgf aumenta a sua volta è un fattore di crescita che può aumentare la proliferazione delle cellule della prostata quindi attenzione vedete come tutto correlato secondo fattore di rischio della sindrome metabolica incluso nella sindrome metabolica è un aumento dei trigliceridi quindi se i trigliceridi sono in quantità maggiore o uguale a 150 mg su decilitro abbiamo un'ipertrigliceridemia e questo fa parte della sindrome metabolica così come un basso valore di hdl c'è il colesterolo buono se questo è inferiore a 40 negli uomini milligrammi e a 50 mg su decilitro nelle donne è un valore troppo basso quindi questo è un altro fattore importante della sindrome metabolica poi iperglicemia quindi se la glicemia al mattino a digiuno è maggiore o uguale a 100 mg su decilitro allora anche qui c'è un problema di iperinsulinemia ultimo fattore presente nella sindrome metabolica è l'ipertensione arteriosa quindi se la pressione sistolica è maggiore o uguale a 130 mm di mercurio e la diastolica maggiore o uguale a 85 mm di mercurio allora noi siamo ipertesi e se io ho la compresenza di almeno tre di questi cinque fattori di rischio purtroppo soffro di sindrome metabolica e come dicevo la sindrome metabolica è associata a un aumento della proliferazione delle cellule della prostata quindi attenzione quindi da tutto questo capiamo qual è effettivamente l'approccio corretto alla limitazione dell'aumento della prostata lavorare sullo stile di vita lavorare su ciò che mi modifica la sindrome metabolica l'infiammazione perché questo ciò che sta alla base quindi io posso lavorare su tutto questo anche sull'aumento di estrogeni ad esempio modificando la mia alimentazione cercando di avere un'alimentazione sana il più variegata possibile ricca di vitamine di polifenoli di elementi anti infiammatori come ad esempio gli omega 3 quindi inseriamo il pesce azzurro il salmone selvatico e se non ne mangiamo una quantità sufficiente prendiamo un integratore di omega 3 tutto questo sta alla base dell'infiammazione che poi porta anche all'iperplasia prostatica benigna ok inseriamo nella nostra alimentazione alimenti importanti come ad esempio le crucifere le crucifere se noi sappiamo attivare sul forafano e vi rimando a un mio vecchio video se volete qualche informazione a riguardo il sul forafano ha la capacità di inibire l'aromatasi che è quell'enzima che trasforma il testosterone in estrogeno quindi è molto interessante il tè verde il tè verde è un potentissimo antiossidante la curcuma un altro antinfiammatorio interessante tutti questi alimenti dovrebbero essere presenti nella nostra alimentazione e soprattutto la nostra alimentazione dovrebbe essere priva di alimenti pro infiammatori quali sono quegli alimenti che sono stati correlati all'ipb prima di tutto i latticini quindi latte e derivate se noi vogliamo mangiare un pezzettino di formaggio eventualmente cerchiamo quello che arriva dalla fattoria in cui gli animali sono stati alimentati ad erba quindi grass fed se no i latticini dovremmo eliminarli e attenzione allo zucchero e lo zucchero io non intendo soltanto quello delle caramelle dei dolciumi ma intendo anche tutto ciò che è cereale raffinato quello è glucosio puro che in fiamma ci fa invecchiare e oltre a tutto questo fa aumentare anche il volume della prostata quindi attenzione a questi alimenti altamente pericolosi l'importanza del ruolo di un'alimentazione corretta per il benessere della prostata è comprovato da una cosa l'ipertrofia prostatica benigna la troviamo soltanto nell'uomo e nel cane addomesticato nella volpe e nel lupo l'ipertrofia prostatica benigna non c'è e direi che il cane assomiglia decisamente di più alla volpe o al lupo piuttosto che è all'uomo no cos'è che accomuna l'uomo e il cane addomesticato ciò che mangia e l'esposizione a xenobiotici perché noi mangiamo molto industrializzato mangiamo carne proveniente da allevamenti in cui vengono dati mangimi contenenti erbicidi pesticidi quindi sostanze xenobiotiche che hanno una struttura molto simile a quella estrogenica quindi nel nostro corpo attiva non questo disequilibrio ormonale e la pappa che spesso diamo al cane arriva dallo stesso tipo di allevamento e spesso al cane diamo ciò che mangiamo noi se non gli diamo i preparati quindi questa cosa qui ci dovrebbe far pensare secondo cerchiamo di avere una restrizione calorica se il grasso viscerale c'è dobbiamo ridurlo perché per tutto quello che abbiamo visto prima quindi cerchiamo di alimentarci correttamente ed evitare l'assunzione di calorie vuote e inseriamo nella nostra routine giornaliera l'attività fisica noi siamo nati per muoverci purtroppo la società di oggi ci porta a essere perennemente seduti ma noi abbiamo bisogno di muoverci esattamente come abbiamo bisogno di alimentarci correttamente e di dormire le giuste ore e nel modo corretto quindi prendiamo la buona abitudine di fare almeno una camminata veloce al giorno sono sufficienti 10.000 passi al giorno però dobbiamo inserirli nella nostra routine non c'è non c'è alternativa e per ultimo ben venga all'inserimento di integratori fitoterapici che possano aiutarci da un lato ad abbassare il livello di infiammazione del sistema dall'altro limitare la sintomatologia se io assumo già il farmaco posso anche integrare con ad esempio gli omega 3 con altri integratori che lavorino sull'infiammazione posso integrare ad esempio con un fungo come il maitake perché non va assolutamente in contrasto il reishi un altro fungo molto interessante dal punto di vista antinfiammatorio possiamo inserire un estratto di serenoa repens di semi di zucca tutti questi sono dei rimedi fitoterapici molto interessanti perché vanno a lavorare ad esempio la serenoa ha un'azione simile ai farmaci come la finasteride che sono inibitori della 5 alfa reduttasi quindi l'enzima che trasforma il testosterone in diidrotestosterone c'è la sua forma attiva quindi possiamo inserirli all'interno della nostra giornata per cercare di avere un miglioramento della sintomatologia ma noi dobbiamo focalizzarci su tutto ciò che dobbiamo fare perché il terreno funzioni perché altrimenti probabilmente la serenoa o i semi di zucca o l'ortica non ci daranno il beneficio che noi speriamo quindi io ci tenevo a sottolineare molto bene questa cosa qua bene io spero con questo video di esservi stata utile se così fosse mi raccomando mettete un like al video condividetelo con tutti gli uomini i vostri amici vostri parenti che sapete soffrire di pb perché penso che gli possa essere utile e noi ci vediamo la prossima settimana io vi mando un abbraccio grandissimo e vi auguro una buona settimana ciao 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 ciao